buongiorno a tutti amici oggi sono uscito un po a fare una bella spazzolata fa un po freddino però si sta bene vediamo un po di trovare qualcosa di buono qualche moneta qualche motiva qualche cosa di bello ok alla prima buga ci sentiamo e rieccoci qua prima buga non indifferente un pezzo di ferro però disegnava come una moneta va bene ma dopo eccomi sto girando nel bosco però fino adesso niente solo quel pezzo di ferro la basta vediamo qua un po ok a dubbio ecco qua un buon segnale vediamo cosa esce ecco qua un vero di cavallo e va bene ok ecco qua dopo tanto una moneta non si vede bene cos'è non si vede bene non riesce proprio comunque un Vittorio Emanuele si Vittorio Emanuele sicuro si ma sono 5 centesimi 5 centesimi si si vede il 5 ok in questo bosco qua non si vede non si riesce quasi a camminare ecco qua 5 centesimi 5 centesimi buono a dopo ecco qua ecco qua un altro bel suono vediamo un po' un fungo un fungo vediamo cosa esce qua è proprio difficile trovare qualcosa però dovrebbe essere una moneta ecco qua un altro pezzo di ma secondo me è alluminio suonando come una moneta la piombo ok un altro giro a dopo ecco qua un altro suono non credo sia moneta però proviamo poi c'è una crotta vediamo un po' ecco qua una chiave nel bosco è anche nuova va bene vediamo un po' la crotta vediamo un po' la crotta provo ad entrare dentro vediamo se suona qualcosa vediamo un po' la crotta vediamo un po' la crotta troppo buce Non si vede niente, bel posto comunque, anche se non c'è niente va bene, a dopo, va proprio fuori dalla grotta, mi dà moneta, vediamo, se esce qualche cosa. Ancora no, prima ho trovato una chiave, ora vediamo, niente ancora, segne e moneta, però, secondo me, può essere qualunque, cosa, si sposta, ancora profondo, ancora profondo, speriamo che c'è qualcosa di buono. Tanta fatica, lattina, e va bene, portiamo a casa. Qua non c'è niente, chissà come ho trovato quella moneta, però vi faccio vedere un'altra grotta, anche se qua è un po' scarsa. Ecco qua, un'altra grotta, va bene. Sono nella giungla, qua, diciamo. Come ho trovato quella moneta, ripeto, non lo so. Proprio in un punto che è strano, va bene. Questo sono dei funghi, questo è il mio primo video dell'anno, ringrazio i miei duecento e due iscritti. Spero che il video vi piaccia, anche se è un po' breve, però, ci aggiusteremo. Quando faremo gli altri video con Andrea, sarà tutta un'altra cosa. Va bene, un saluto a tutti, i miei iscritti e nonno. Bene bene, eccomi a casa, quello è quello che, diciamo, ho raccolto oggi. Ecco, questo, sembra piombo, perché mi suona, moneta, una spacca legna, ferro di cavallo, coltiegie varie, e poi due monete, una Vittoria Emanuele e una 5 centesimi, 10 centesimi ape. Ma ecco qua, ok. Ciao a tutti, al prossimo!